Un bacio è un apostrofo rosa fra le parole ti amo. La celebre citazione da Cyrano deve aver ispirato la perugina che ha prodotto il suo cioccolatino alla nocciola in versione rosa, limited edition, forse puntando al mercato femminile, magari per sconfiggere i buoni propositi dietetici. Non è colpa di un colorante però, ma merito delle fave di cacao rubi dalla delicata tinta e a quanto pare dal gusto fruttato, risultato di uno speciale processo produttivo. Piacerà al mercato? La perugina, oggi parte del gruppo Nestlé, ricorda che il cioccolato rosa è la quarta generazione della dolce delizia, dopo quello fondente, quello al latte e quello bianco nato 80 anni fa. E chissà se il bacio rosa diventerà virale.